Presidente, queste tre giorni dedicata a Van Vitelli per la Regione Marche rappresentano una vetrina importante, una testimonianza del patrimonio culturale lasciato da questo grande artista nella nostra regione. Come possiamo ancora valorizzarlo? Sicuramente la memoria, il ricordo e anche la valorizzazione dell'eredità del Van Vitelli è molto importante. Però a mio avviso la prospettiva non deve essere quella museale, ma deve essere prendere stimolo da questi grandi personaggi del passato per costruire noi la città del futuro.